Sì, siamo questa sera sul lungomare di Cavolania Marina per celebrare e affermare e promuovere ancora una volta l'importanza della sensibilizzazione del mondo civile, di tutta la nostra società, di quello che è la violenza di genere. Il femminicidio purtroppo è una piaga della nostra società ed è molto importante ricordarlo in questo momento di prevenzione. Il prevenire significa avere la possibilità di stare a contatto con le persone preposte, tipo le forze dell'ordine, tipo le varie associazioni, stare a contatto con quella che è la microviolenza quotidiana che nelle mura domestiche inizia a germogliare. Quindi prevenzione assolutamente e poi oggi l'associazione del maestro Giuseppe Cavallo fa un esperimento molto bello, cerca di comunicare le tecniche difensive e questo è un deterrente che sicuramente potrà fare del bene a quella che è veramente una piaga della nostra società. Sappiamo che il 9 agosto entrerà in vigore la legge, il cosiddetto codice rosso appena approvato in Parlamento, che mira a tutelare sempre di più quelli che stanno diventando degli atti che si ripercuotono sempre come il maltrattamento in famiglia sul sesso debole, sulle donne. L'amministrazione comunale dal suo insediamento ha cercato di tenere alta l'attenzione su questa problematica e lo fa coinvolgendo la comunità, coinvolgendo le associazioni, coinvolgendo la parte sana di questo paese che vuole dare un messaggio forte anche e soprattutto in un periodo dell'anno in cui in agosto l'attenzione tende a scendere. Mi è piaciuto molto quello che ha scritto l'assessore alle pari opportunità del comune di Cavulogna, la dottoressa Maria Grazia Di Masi, l'avvocato di Masi, che ha detto che la violenza di genere non va mai in vacanza e proprio con questo spirito, con questo intento, come Accademia Arti Marziali di Cavulogna, Sederne e Polisten abbiamo voluto, diciamo così, offrire la nostra disponibilità per questo seminario sulla difesa personale femminile. in un mondo purtroppo dove la violenza imperversa aiutare chi è soggetto ad aggressioni o a tentativi di vessazioni da parte soprattutto del cosiddetto sesso forte è fondamentale e importante secondo noi. Personalmente mi occupo di antistalking da diversi anni, oltre che di antibullismo e quindi andare a lavorare, a operare per contribuire ad arricchire il bagaglio di conoscenze e di esperienze di persone di sesso femminile affinché possano acquisire tecniche, metodologie e strategie per difendersi da aggressione di qualsivoglia natura è, a mio parere, un fatto strategico, un fatto fondamentale. oggi è l'inizio di una serie di iniziative, quindi è la prima di una serie di iniziative che porteremo avanti nel tempo proprio per contribuire ad accrescere anche l'autostima e la sicurezza nelle persone di sesso femminile affinché possano affrontare qualsivoglia emergenza nel corso della propria quotidianità.